Carlo Pavone, l'ingegnere 44enne di Montesilvano, non ce l'ha fatta. Il professionista di Montesilvano, in coma da oltre un anno, è morto ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara. Una morte dolorosa e che ora cambia gli scenari giudiziari del processo a carico di Vincenzo Gagliardi, l'impiegato delle poste che, secondo l'accusa, avrebbe esploso il 30 ottobre del 2013, il colpo di fucile che ha poi causato, a distanza di oltre un anno, il decesso del professionista di Montesilvano. Ora i fratelli di Carlo Pavone chiedono di conoscere la verità e il nome del responsabile, pronta alla costituzione di parte civile con una richiesta di risarcimento. Tecnicamente, processualmente, adesso cambiano gli scenari, nel senso che la qualificazione giuridica del fatto sarà modificata inevitabilmente e quindi la fattispecie che sarà contestata all'indagato, all'imputato, anzi sarà quella di omicidio volontario premeditato, a differenza del tentativo che fino all'altro ieri era la contestazione, per cui l'indagato è in custodia cautelare in carcere. I familiari chiedono semplicemente giustizia. Abbiamo la necessità di conoscere le motivazioni della morte di Carlo e anche capire chi è stato a cagionarla. Sappiamo però che la Procura della Repubblica di Pescara e gli inquirenti hanno fatto un grande lavoro e conseguentemente attendiamo di poterlo poi valutare in sede processuale. Ovviamente ci costituiremo parte civile e lo dobbiamo fare per stare nel processo. La questione di parte civile, la richiesta di risarcimento del danno è un presupposto per la questione di parte civile, la faremo e azioneremo quelle che sono le nostre facoltà, quali persone offese. Ma, come ho già detto, l'interesse vero della famiglia Pavone è quello di conoscere le motivazioni soprattutto e i responsabili di questo tragico evento. Che lei sappia ci sarà l'autopsia sul corpo del povero ingegnere? Credo che sarà fatta e sarà opportuno farla, anche se io credo che dubbi sulle cause della morte non ve ne possono assolutamente essere, ma credo che comunque con la Procura della Repubblica di Pescara, che si è sempre mossa in maniera molto attenta. Ovviamente penso che dovrà svolgere anche questo tipo di accertamento.